Ancora forti emozioni per il film Il maestro più Margherita, proiettato ieri sera giovedì 27 dicembre presso il Cinema Micron a Vallo Scalo. Un film apprezzato, tanto da registrare anche questa volta, il tutto esaurito. Alla proiezione erano presenti anche il senatore Castiello, che ha commentato positivamente la pellicola. Importanti anche le parole dei sindaci Eros Lamaida e Francesco Massanova, nonché preside dell'Istituto Parmenide di Vallo della Lucania, presenti per l'occasione. Sono davvero emozionato perché arrivare qui e trovare il sold out, tantissima gente che è intervenuta per vedere il nostro film, un lavoro di due anni, è un'emozione unica e a quanto pare adesso che vengono a salutarci, a farci complimenti, sembra che il messaggio sia passato e quindi questa è la soddisfazione più grande. Il 9 di gennaio uscirà nelle sale perché questa sera abbiamo fatto l'anteprima e abbiamo messo insieme un po' di sale del Cilento, della provincia di Salerno, qualche sala anche nel Napoletano e poi via man mano, essendo una distribuzione indipendente, quindi non abbiamo nessuno alle spalle, la facciamo da noi e cercheremo appunto poi di divulgare il tutto, anche attraverso le scuole. Quindi nel darti ancora i nostri più sentiti auguri affinché questo tuo piccolo grande capolavoro possa avere il successo meritato, ti faccio una domanda un po' particolare, che cosa c'è nel cassetto per il futuro? Ebbene è un altro sogno che vorrei realizzare, come ho anticipato prima nell'intervento, Walt Disney diceva tutti i sogni possono diventare realtà, l'importante però è crederci, quindi essere determinati e io lo sono e quindi mi auguro che anche con l'aiuto di tanti amici possiamo realizzare un gran bel film, ma un film sul brigantaggio che abbia un carattere americano alla Braveheart, ho detta grossa questa.